Per il Ministero dell'Interno, uno dei cento latitanti più pericolosi d'Italia, per altri un fantasma. 31 anni compiuti, Gaetano Angrisano è ritenuto un elemento di spicco della Vanella Grassi, clan che ha fatto dell'8 G di Scampia la sua roccaforte. È lì che l'hanno scovato i carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Napoli. Per un anno e mezzo è sfuggito alle manette, nonostante una condanna a dieci anni di reclusione pendente per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. I militari hanno seguito le sue tracce, svolgendo indagini tecniche e tradizionali. Ogni tessera del puzzle lasciava presagire che non fosse lontano dal suo quartiere. E questa notte, più di 250 carabinieri hanno letteralmente cinturato il 8 G, impossibile entrare o uscire. Hanno perquisito tutte le abitazioni a blocchi di edifici e lo hanno stanato. Invitato ad una festa, Angrisano ha dovuto lasciare amici e parenti subito dopo la torta. Il 31enne, ora nel carcere di Secondigliano, è il quindicesimo latitante catturato quest'anno dai carabinieri.